Ho lavorato insieme ai miei colleghi perché l'Italia ha bisogno di immigrazione legale. Il primo elemento da contrastare è l'immigrazione illegale perché è il primo avversario di un'organizzazione di flussi che possono garantire una maggiore integrazione degli immigrati e problematiche sociali inferiori a quelle che invece si hanno quando c'è un'immigrazione incontrollata. Del resto è la razza di una legge che ha attraversato il tempo e i vari governi perché era stata sempre applicata in maniera, almeno se vogliamo usare un effimismo, distorta. Stanno abbiamo previsto flussi triennali che permettono di dare risposta alla richiesta di lavori in alcuni settori strategici e abbiamo dato vita a processi che possono portarci a creare rapporti solidi di natura bilaterale che permettano ingressi, dando la possibilità a coloro che vogliono arrivare in Italia di formarsi anche sia al lavoro che alla lingua che al nostro modello avendo quindi una possibilità, ripeto, di maggiore integrazione loro e di facilitazione ed efficienza del mercato del lavoro. Quindi su questo stiamo facendo dei buoni passi avanti, credo apprezzati sicuramente dalle organizzazioni di categoria che ce l'avevano fatta richiesta e noi lavoriamo in linea con quelle che sono le istanze che ci provengono anche dai corpi intermedi. Ministro, le famiglie con il Borsellino discutono le parole di Nordio, quelle ieri sui collaboratori di giustizia, le chiedo se può chiarire la posizione del governo su questo e magari c'è stato un frattempo. Credo che il Ministro Nordio debba e sappia chiarire meglio di ogni altro temi di questa natura e non mi permetto di commentare le posizioni di famiglie, di persone. Io penso, guardi, non ho oggettivamente, pur proveniente da studi giuridici, non ho, se senza dubbio, l'ardire di dover commentare una persona come Nordio che ha una statura etica, morale e una preparazione indiscutibile e quindi non faccio l'esegeta delle sue parole né il commentatore. Cosa ne pensa invece di quanto sta accadendo con la Ministra Sant'Anche e il Ministro? Andiamo.